e bella a tutti i ragazzi sono il yogurton 290 non so se mi vedete e oggi siamo in un nuovo video vlog mettici un po' vediamo si è il yoga si lo so e stiamo al porto di seniglia dove sono in vacanza per un mese ma che rompi i panni il porto adesso adesso mi fanno cadere il telefono sto tre io li ammazzo tu non sei neanche chi è non li ascoltate loro questo è il mare c'è la paperella gay eccola lì e in questo video video vlog o lo so farvi vedere il porto potrei anche chiuderlo qua ma ho un'altra presa per voi vi devo dire una cosa tranne che le due persone erano brutte corriamo dagli altri vi devo dire ho visto il video che vi ha consigliato uno di voi quello vi faccio vedere se sono davanti io lo so presa un applauso che dice attenzione vai dare un 5 vai dare un 5 le persone con le mani agli operai con le mani legge si io non ho cagato sto roba ok ragazzi ho capito stavo dicendo il suo gemello il gemello del cartello col culo bello ecco il trisello il trisello senza pisello hai pestato la merda questo è il mare adriatico c'è la spiaggia per chi vuole fare una bella dieta e molti esercizi in giro ci sono le fighe si ok in giro ci sono le fighe e allora ragazzi per questo video è tutto se siete ancora iscrivetevi e ci vedremo nel prossimo episodio ciao ciao